Sono un alchila semplice. C'è un gioco da tavolo sul calcio! Ricordate, Scudetto, pitch calcio? Football manager? Winning Eleven? PES? FIFA? No? Stoppate questo video. Fuori. Voi che siete rimasti, aprite bene le orecchie perché c'è nella trasposizione da tavolo. Eleven, il board game sul calcio manageriale. Perché c'è molto di più di 11 tizi in mutande dietro le vittorie di una squadra di pallone. Un presidente illuminato deve ampliare le infrastrutture dello stadio, ingaggiare dirigenti, staff, calciatori, giovani o esperti da allenare e schierare come si deve per il match della domenica. Da 1 a 4 partecipiamo al campionato che si svolge nell'arco di 6 settimane. Le attività infrasettimanali sono di pura gestione delle risorse che metteremo a disposizione della Rosa nel weekend, quando il nostro 11 scenderà in campo secondo lo schieramento che avremo predisposto in base al report dello scout sull'avversario di turno. Avversario che è sempre l'intelligenza artificiale. La competizione con gli altri al tavolo si consuma sempre sui punti vittoria di fine partita che otterremo fra le altre cose in base alla posizione in classifica al termine delle 6 giornate. E dal campo di Tocca a Te è tutto a voi studio. L'area trasferimenti è un'area comune costituita da carte, a partire dalle calciatore. Le distinguiamo nei vari mazzi veterani, giovani e regolari. Inizialmente sul lato non allenato. Tutti hanno il retro allenato, contraddistinto dalle tre stelle. Solo dal mazzo regolare ne rendiamo disponibili 5. Restano coperti il mazzo incontro dirigenza e quello tattica, dal quale escludiamo al momento le tattiche base, quelle con due schemi. Anche dalle carte staff escludiamo le primo allenatore, oltre a quelle per numero di giocatori superiori ai partecipanti, prima di pescarne 5 a faccia in su. Riveliamo anche 5 carte sponsor. Nella riserva esterna gli indicatori risorsa denaro, tifosi, operazione e fitness, con eventuali moltiplicatori. I segnalini punti vittoria, da 1 e 3 sul retro. I segnalini forza, temporanea e permanente, e debolezza, temporanea e permanente. Promemoria, provvedimento, infortunio, infrastruttura stadio e il dado a 12 facce. Ogni giocatore dispone di tre plance, stadio, club e partita. Sulla club gli indicatori statistica partono dal 2 dei tracciati del colore corrispondente. Dalle staff messe da parte, ciascuno pesca il suo primo allenatore. È la prima carta dello staff. Tutti pescano 4 carte dirigente ed eseguono un draft. Per 3 volte ne scelgono una e passano le restanti a sinistra. Alla fine scartano quella rimasta e rivellano le 3 selezionate al centro della plancia. Gli indicatori statistica avanzano secondo le icone mostrate. Inoltre si applicano subito eventuali bonus a fondo carta. Vince Smith frutta 3 punti vittoria da conservare nella propria riserva. Al primo giocatore scelto a caso, l'indicatore di livello, che parte dal lunedì. Scelta una squadra e il giocatore ne riceve il dado, gli indicatori e l'emblema qui. Un primo indicatore sarà quello punteggio, sullo 0 del tracciato risultato della partita. Un indicatore nero va sullo 0 del tracciato avversario. Nello stesso colore, gli indicatori maglia numerati partono in questa posizione, tutti sul lato attaccante. Ciascuno pesca un veterano e un giovane. Vanno entrambi sul lato non allenato, in corrispondenza del ruolo di competenza. Gli indicatori maglia con lo stesso numero devono mostrare l'icona che rappresenta il loro approccio. Marti è un centrocampista difensivo, dunque l'indicatore numero 7 si gira. Il giovane è un attaccante offensivo senza numero, in questo caso sostituiamo una maglia scelta in attacco con una senza numero dalla panchina, sul lato offensivo. Solo ora giriamo gli indicatori con i numeri più bassi, sino ad averne in campo 5 difensivi e 5 offensivi. Le carte avversario sono separate in mazzi in base alla divisione, in questo ordine per difficoltà crescente. Tutti concordano due mazzi adiacenti da affrontare. Ciascuno pesca a caso tre carte con emblemi differenti dal mazzo più difficile e le piazza qui sul lato resoconto. Sopra altre tre dal primo mazzo, sempre diverse tra loro. Ciascuno pesca due carte obiettivo, ne sceglie una che conserva coperta e scarta l'altra. Pesca e tiene coperta anche una carta tattica tra quelle base. Le restanti vengono mescolate al mazzo tattica. Tre indicatori saranno di mantenimento a segnalare il numero attuale di calciatori, staff e infrastrutture stadio. Inizialmente quattro, con le due tribune e due pubblicità già costruite. Dallo zero della plancia campionato partono gli indicatori squadra di ogni giocatore e gli indicatori sul lato colorato di tutti e otto gli avversari dei due mazzi da cui abbiamo pescato. Accanto, i dadi avversari. Completano i componenti il blocchetto segnapunti e le schede scenario per la modalità solitario. La partita si svolge in sei settimane. Ogni settimana è composta da cinque giorni raggruppabili in questo modo. Il lunedì tutti risolvono in contemporanea queste sottofasi. In produzione ciascuno guadagna risorse in base agli indicatori statistica sui tracciati. Poi pesca una carta in contro dirigenza e lancia il proprio dado. Il risultato rimanda al colore per cui vota ogni dirigente. Il colore votato in maggioranza decreta l'esito dell'incontro. La decisione gialla non soddisfa il giocatore. Quante volte vuole può spendere un tifoso per rilanciare il dado? Quella rossa va bene, risolve l'effetto. L'icona in un cerchio si traduce nella variazione indicata della statistica. Senza cerchio si guadagnano, o perdono in questo caso, le risorse effettive. Aumentare una statistica oltre il 5 comporta solo il guadagno della risorsa indicata. Analogamente la statistica non scende sotto l'1, ma solo se posseduta fa perdere la stessa risorsa. Il dirigente Fedor Bogdanov ha anche una caratteristica permanente. Poiché è stata scelta l'opzione rossa, il proprietario guadagna una operazione. Terminato per tutti il lunedì, il primo sposta l'indicatore di livello sul martedì. Durante ognuno dei tre giorni successivi, a partire dal primo e proseguendo in senso orario, ogni giocatore esegue un'azione base a scelta tra queste. Il giallo firma con uno sponsor. Su ogni riga di carte in area trasferimenti sono disponibili sempre solo le tre più a destra. Tra queste ne sceglie una e quale tra i tre tipi di contratto firmare. Opta per il megafono, col quale guadagna subito i 5 denari dell'effetto e la scarta. Dopo l'acquisto di una carta, quelle a sinistra si spostano, a riempire il vuoto e si pesca la nuova più a sinistra. La mano passa al viola, che esegue la stessa azione per firmare con la Sport Drinks uno sponsor cartellone. Devi avere una pubblicità disponibile sotto cui piazzarla e scegliere se godere dell'effetto o del bonus. Grazie a quest'ultimo piazza fino a 5 forze temporanee sui suoi calciatori. Chiude il martedì il bianco, che con la stessa azione sceglie la Farmer John Cheese come sponsor divisa. Guadagna sia l'effetto che il bonus. Dunque aumenta di uno la statistica denaro, ma ne perde uno fisico e costruisce gratis la tribuna successiva. Con l'aggiunta della nuova infrastruttura si aggiorna subito l'indicatore mantenimento stadio. Dalla riserva generale arriva qui anche un tifoso. Solo ora la carta va a faccia in giù nell'unico spazio divisa dello stadio. Non potrà più firmare per altri sponsor divisa. Il giallo sposta l'indicatore sul mercoledì per il secondo giro di azioni. Costruisce un'infrastruttura per lo stadio. Costano tutte e tre denari. Abbiamo già visto le tribune. Le pubblicità aumenta il numero di contratti sponsor cartellone che è possibile siglare. Tutte le altre trovano posto sullo stadio, come il negozio di merchandise, scelto dal giallo per aumentare la statistica denaro. Il numero di infrastrutture va subito aggiornato sul mantenimento. In questi quattro spazi è possibile averne anche due identiche. Segue il viola, che con la stessa azione costruisce un ufficio. Il primo costa tre denari per piazzare qui l'indicatore ufficio. Ogni successiva costruzione ufficio lo farà avanzare di uno, al relativo costo. Il bianco risolve l'effetto di una qualsiasi sua carta che abbia la dicitura azione. Se c'è qui un'icona, deve spendere anche questa risorsa per attivare l'effetto. Mark Spiderson allena uno dei calciatori e sceglie Marty. Allenare vuol dire girarlo sul lato allenato. Eventuali segnalini sulla carta si conservano. In genere un regolare e un giovane, quando allenati, aumentano la propria forza. Un veterano la riduce. Il primo allenatore può anche aggiungergli una forza permanente. Se lo fa però si infortuna. Una volta risolta l'azione, la carta va girata di 90 gradi, ad indicare che non è più eseguibile questa settimana. Al giovedì, ultimo giro di azioni. Il giallo ingaggia un calciatore. Può sceglierne uno regolare tra i tre più a destra o pescare il primo giovane. Qui c'è sempre il costo, in questo caso un denaro. Il mantenimento calciatori si aggiorna e, come in setup, si aggiunge al ruolo di competenza, dove una maglia numerata a scelta, non già assegnata ad altri ingaggiati, torna in panchina, a beneficio di una maglia senza numero come il giovane, posta sul lato del suo approccio. Solo una volta ingaggiato è possibile sbirciare il lato allenato di un giovane. Il portiere è l'unico che, una volta ingaggiato, non è rappresentato da una maglia. Il viola ne cede uno, lo scarta per guadagnare eventuali segnalini punti vittoria su di esso e due denari più tanti quanto la sua forza attuale. Se però il calciatore è infortunato o sospiso, ne guadagna la metà arrotondata per difetto. I calciatori da mantenere diminuiscono. Chiude il bianco che ingaggia staff. Tra le tre acquistabili paga un denaro per aggiungere Jenny Pedersen al suo staff, da aggiornare in mantenimento. Repristinata all'area trasferimenti, se presenti si verificano subito i bonus. In quanto allenatrice primavera, sceglie di allenare questo giovane, che si scopre essere Favreau. La maglia senza numero torna in panchina, giacché a rappresentarlo sarà la 6, che si sposta a centrocampo sul lato offensivo. Avremmo continuato a usare questa solo se il giocatore avesse avuto un numero superiore all'11. Anche il suo bonus si risolve subito. Può spendere fino a tre fitness per rinforzarsi con altrettante forze permanenti. Ogni giorno, prima o dopo l'azione base, il giocatore può spendere due operazioni per svolgere l'azione di una sua carta ancora disponibile. Potrebbe così spendere un fitness per ruotare Pedersen, affinché alleni un altro giovane. Ma il bianco si affida al dirigente Wood, grazie al quale pesca un'altra tattica. È arrivato il weekend, il giorno della partita. Tutti contemporaneamente svolgono per sé queste tre sottofasi. In base al resoconto dello scout sull'avversario, il giocatore sceglie la tattica con cui schierare la formazione, con l'unica accortezza che ogni zona di fascia esterna può ospitare al massimo una maglia, fino a tre quelle centrali. L'effetto signora. Ora può assegnare un fitness ad ogni calciatore che voglia sia della partita. Gli unici che non vi possono prendere parte sono gli infortunati e i sospesi. Inoltre può scegliere solo uno di due calciatori che dovessero avere lo stesso numero di maglia. Le maglie in campo non possono essere girate, ma devono essere coerenti con numero e approccio dei calciatori selezionati, alcuni dei quali possono avere degli effetti obbligatori da risolvere prima della partita. Gonzales, col suo teckel pesante, costringe a tirare il dado. Con un 6 l'avversario segna un gol. Altri sono opzionali e richiedono risorse da assegnare in questa fase. Da ogni staffo, calciatore infortunato o sospeso, si scarta un segnalino per tipo. Infine il giocatore può piazzare un tifoso su ogni tribuna. Lo stadio si dice tutto esaurito, solo con quattro tribune piene. Il secondo passo è di risoluzione della partita. Si rivela la carta avversario. È possibile giocare una seconda carta tattica, diversa dalla precedente, solo per verificarne l'effetto. Il giallo gioca per il pareggio. Piazza fino a tre debolezze temporanee su diversi calciatori della partita, per rinforzarne altre tanti. Le tattiche giocate gli tornano in mano. È adesso che i calciatori con risorsi attivano il loro effetto. Grazie al suo passaggio rapido, Young rafforza un compagno di reparto con una forza temporanea. Poi si ruota, ad indicare che l'effetto si utilizza una volta per settimana. Si gioca. Il campo è diviso in nove zone raggruppate nelle cinque sezioni fascia sinistra, destra e le centrali. Attacco, centrocampo e difesa. In questo esatto ordine, le confrontiamo con le contrapposte dell'avversario. Ogni calciatore offensivo segna se supera la forza avversaria. Può tentare di bloccarlo solo un difensivo avversario sul settore contrapposto o, in seconda battuta, il portiere. In fascia sinistra abbiamo il solo sette che tenta di segnare. Non è associato a carte, dunque tira con forza uno. Va confrontato con un solo difensivo della fascia destra avversaria. Questo difende con forza due, quindi blocca il nostro tiro. Viceversa, il suo offensivo da due può confrontarsi con il nostro difensivo non associato a carte, dunque a forza uno, oppure con Yong, che è a forza due. Poiché gli accoppiamenti vanno fatti in modo da minimizzare le reti, e Yong, che è a parità di forza, blocca il tiro. Spostiamoci sulla fascia opposta. Entrambe le squadre hanno solo difensivi. Nulla di fatto. Il nostro attacco centrale ha ben due offensivi, il numero dieci di forza uno, così come l'undici, giacché De Luca non è della partita. Uno dei due viene bloccato dal difensivo in difesa avversaria. L'altro passa, ma il loro portiere con forza due para. Un solo guanto indica che questa è la sua unica parata di partita. Il suo offensivo da uno non è contrastato da difensivi gialli, ma Barbeau con forza due sventa il primo tiro. Passiamo a centrocampo. Evans ha forza base tre, ma ogni segnalino forza l'aumenta di uno. La sua bomba da cinque buca sia il difensore da uno che quello da due. Qualora avesse avuto una parata disponibile, anche il portiere da due sarebbe stato superato. Gol di Evans. Ha preso parte al match e ha questo spazio vuoto. Solo in questo caso lo copre con un punto vittoria. Inoltre ha segnato e ha questo spazio vuoto. Altro punto. Il tiro avversario da due non è contrastato, ma ci pensa Barbeau con la sua ultima parata da due a sventare il tentativo. In ultimo la nostra difesa centrale, che con un tiro da uno in contrastato sia dall'attacco avversario che dal portiere senza più parate, segna ancora. Il suo tiro da uno viene bloccato invece da Gonzales, che ha forza base quattro, meno uno per ogni segnalino debolezza. Forza tre è più che sufficiente. Controlliamo il risultato. Prima si risolvono gli effetti dopo la partita. Abbiamo vinto due a uno. Il nostro indicatore squadra avanza di tre. Resta a zero il Downtown United. Anche al Biola è capitato di affrontare il Downtown questa settimana, pareggiando uno a uno. Entrambe avanzano di un punto, ma se più giocatori affrontano contemporaneamente lo stesso avversario, il suo indicatore passa sul lato inattivo. Per ogni avversario che non ha giocato in questo turno è il lancio del dado del suo colore a stabilire di quanti punti avanza. Fa eccezione chi non ha giocato ed è inattivo. Anziché avanzare del lancio di dado, passa sul lato attivo. Tutti scartano i tifosi in tribuna e guadagnano un denaro ciascuno. Si scartano risorse, forze e debolezze temporanei dai calciatori selezionati per la partita. Restano invece forze e debolezze permanenti, così come tutti i segnalini su chi non ha giocato. Tiriamo per le conseguenze della partita. Il giallo ha vinto. Il 5 della colonna vittoria gli consente di allenare un selezionato per la partita. Il viola ha pareggiato e il 3 della colonna pareggio costringerebbe a una debolezza su un selezionato per la partita. Anche in questo caso, quante volte vuole, può spendere un segnalino tifoso per rilanciare. Non si rilanciano così solo i dati avversario. È andata ancora peggio per chi con l'1 si verifica un infortunio grave. Deve tirare il dado da 12 e assegnare due segnalini infortunio al calciatore col numero indicato, se selezionato per la partita. Il risultato maglia però si associa a chi ha numero sopra l'11. Non ce ne sono, men che meno partecipanti al match, dunque nulla accade. Il bianco ha perso, ma un fortunato 6 attribuisce due forze temporanee a un selezionato per la partita. La settimana si chiude riattivando le carte esaurite. I segnalini puntigio tornano sullo 0 e si scarta l'avversario affrontato. Questa leggenda detta quanto dobbiamo alla banca in base alla zona colorata occupata dagli indicatori. 6 denari in tutto nel nostro caso. Per ogni denaro che non riesce a saldare, il giocatore piazza due segnalini provvedimento su una staff, a partire da chi ne è senza. Ciascuno conserva tutti i denari, ma al massimo un tifoso, un fitness e un'operazione. Scarta le eccedenze. L'indicatore di livello passa a sinistra al nuovo primo giocatore che lo piazza sull'1D. In area trasferimenti vengono scartate le carte più a destra di ogni riga. Ogni riga slitta di 1 per far spazio alla nuova carta. Inizia una nuova settimana. Al termine della sesta si calcolano i punti vittoria. Ciascuno ne guadagna in base alla posizione sulla plancia campionato. A parità di posizione, tutti guadagnano quanto indicato. Alcune infrastrutture stadio costruite forniscono punti vittoria, così come l'indicatore sul tracciato ufficio. Le carte obiettivo forniscono punti durante la partita. Non appena raggiunge il livello 5 in almeno due statistiche, il giocatore rivela economia bilanciata e guadagna i due punti vittoria di questa parte di obiettivo. Se non sono la statistica denaro, realizza anche il completo. Altri due punti. Le carte staff vengono raggruppate in base ai set che compongono. Tre carte di questo danno 5 punti. Due di questo 3, 0 per il solo primo allenatore. Sommiamo quelli presenti in riserva e sui giovani. Ogni segnalino provvedimento sottrae un punto. Vince chi ne ha di più, spareggiando la miglior posizione sulla plancia campionato. Sono un appassionato di calcio. Faccio fatica a dare un giudizio distaccato dal tema, ma ci provo. E allora osservo che il feeling delle attività infrasettimanali è quello che può dare un qualsiasi gestione risorse, anche di vecchio stampo se vogliamo. Il bello però arriva nel weekend. È molto simpatico leggere il report soggettivo, attenzione, del nostro scout sull'avversario. Impostare tattica e conseguente schieramento. E poi rivelare la tattica dell'avversario per andare a risolvere il match. Va da sé. Al di là della parte gestionale, il cuore del gioco vuole essere fortunoso, con elementi di controllo, ma non più di tanto. Le stesse carte non è che debbano fare sfoggio di chissà quale bilanciamento. Mettiamola così. Tralasciando chi come me con i Leven corona il sogno di trasporre da tavolo le schicchere da bambino con una pallina di carta arrotolata su un campo da calcio disegnato a penna, anche chi non mastica di calcio ci si può divertire. Se piacciono i giochi di pianificazione in base a indizi, va a dominanza casuale. Le espansioni poi allungano enormemente l'esperienza. Meritano già di per sé gli scenari in solitario inclusi nel base, ma mi piace segnalare anche le espansioni della campagna in solitario e quella delle coppe internazionali. Il tutto comunque è da evitare sempre e comunque in più di due giocatori. In più persone i tempi si dilatano troppo per quanto la partita riesce a restituire in termini di divertimento. E no, non mi manca affatto il match contro l'avversario al tavolo. Va benissimo così come è anche solo contro l'intelligenza artificiale per quanto sulla carta possa sembrare un solitario. Poi cos'altro dire se non... Forza Napoli! Grazie a tutti!